un altro paio di leggins trasparenti qui qui trasparenti con bella scritta qui molto comode un po mi stanno larghe potevo prendere una misura di più perché proprio qui un po largo però comodo va bene va bene così molto belli tessuto meglio di qualità pagato da 75 30 euro pagato mi sembra parecchio metà prezzo di marca c ha due tasche e poi c'è anche questa maglietta che è anche questa molto leggera estiva trasparente trasparente qui un bel tessuto molto fine come piace a me comodissima e anche questa ha pagato poco ora faccio vedere quanto costa ecco qua vediamo in italia non si paga iva e in livinio non si paga iva e per questo costa meno ecco prezzo il listino significa in italia costa 80 euro più qui costa 65 azzurra c'è scritto azzurra però non è azzurra proprio blu notte bella scura xl mi ci voleva l perché è un po così e vediamo qui ecco maglietta alta qualità proprio di di marca livinio 65 meno 55 per cento io ho pagato 30 euro di questa maglietta che in italia costa 80 un vero affare andate fare tutti i shopping a livinio iva non si paga qui iva non si paga tutto costa poco anche alcol alcol sigarette tanta roba caffè qui un euro tutto nord italia un euro 10 qui anche caffè un euro